Bene, abbiamo il video del Consiglio Sporbicitario del Dario Studio di Tele-G, la sala di televisione di Tata, è una bella televisione, sempre presente, telegiornale, tutto, però, bosca giornale è una cosa, non credere in tutto il suo mondo, non in treo, però, se cazzo non vogliamo, ora, vieni un'altra per fare www.telegi.tv Buongiorno, grazie, stasera il capo, un bravo, un poeta, dei bifugati, hanno usato la scala mente, Salvatore, Cossu, il terminale si legge un'altra poesia. Proeta, sì, ma bravo, bravo, so battenpo su una lea, un'altra poesia la leggiamo volentieri. Eh, intendiamo su un'altra poesia. La leiamo su da esa seconda edizione, la leiamo da esa seconda edizione che abbiamo fatto, s'anno passato, sempre dei su mantessi, dei su mantessi programma. Sempre ottavasa. Sempre ottavasa, è sempre fatta su mantessi, sempre montezenne su un buon antavverso, quindi se io fattendo ottavasa, su un'ichimba è ottavasa, e ha un po' presentato, o sa dire, abbiamo fatto su concorso, sa che io ho fatto a Carrasegale, su Marti, su Marti, di Carrasegale, che noi usiamo su, a Giolzi, vai l'alto, su Puppazzo, e sa dire, su Prozesso, e purtroppo gli diamo fuoco. E a me si fiamme si battono chi, perché non piacerebbe, a poi tussare, a poi tussare Gai, mi vedi che io ha sapato, su Giui, che mi vedi che io ha sapato, de esa musea e degli Olzi, che fa chi è la Giozzi, che fa chi è da Suvizzo, a me mi è toccato a sapato, che fa che Suvizzo e gli Olzi, e che io ha sapato, delle Saccusatore, narriamo su degli Olzi. e tanto io facciamo intervallo, si sa fare la sottava, però Bonnalzo, la sottava è mia, che finì, pro chichare difendere un uvago, a Babbo, e cominciò io, cominciò io, a Babbo mio, canto un dappodolo, a titere in piatta, ha processato, Carlo, che deve essere su di Timonzo, figliacco, già dato accusato, che ha sposto una bisetta in Oriolo, infalso, esso, affine ha giurato, che l'ha promesso, un ucchile a solo, bogali e vune, con questa puntiglia, casezzi, saruinende una famiglia, e poi, mi vedi mamma, mirate la mamma sconsolata, ammusciata, e a su cutto pianghende, in giro vedi, che è malassoltata, intottua il suo marito, quel canto, e da chi ha abito, su fuoco approntente, con presalata, la malavarata, che ha messo, a cui su fuoco caldo, ande bruciare, aggiolzi, fa e l'altro, ascoltatelo, aggiolzi attentamente, arregionendo, con sincerità, e su narada, che è spuro, innocente, e n'alzente, e sa santa verità, che non è malo, e non è sprepotente, siamo i suoi, sani muciughe, di pieno e bontate, e già non è andata, bettato sa era, prova e leato, calchi in breaghera, poi, vi si affoccato, che si affoccato, chi l'ha assegnato, provo a difendere, che si affoccato, chi l'ha assegnato, pagu, badde, bibronne, refricura, bantente, si chiede laureato, ma pare di un scherzo, e sa natura, e da chi fa, che si ringa con cura, si nozente, già in condannato, e con duno simile, a con noto, si ha ragione, li danno sempre d'olto, pare fino a su zui, che è preparato, iscultente, con tanta attenzione, ma da chi arrivi, di a conclusione, su destino dei giolzi, è segnalato, che giù al santo, decanto e stai rato, si buffa tutto, che è uno pallone, e l'estro, l'estro, azende solo meno, e che lega da giolzi, dai cammini, bella, oltre a sapere, sapere che ha fatto, che ha fatto giolzi, ma è veramente, bella poesia, sinceramente, bella, pure come te vedi, illustrata, invece a se la sua cosa, capi vedi, un'ottava che non era io, su vizio, un'ottava che non era io, su zui, una legata sattera, ognuno, non avevamo su naturalmente, preparata a Taurino, prima, sabate notro, noi che pretendiamo, denare chi, è una musica improvvisata, che deve essere, se l'improvisatore, lasciamola, il taranala, un'altra cosa, se la poesia, è questa improvvisata, a Taurino, come ti gusta, però è questa improvvisata, è questa diversa, a Taurino, è un'altra cosa, poi è bella rimata, è una rima, racconta, però è sempre poesia, tutte poesie, esatto, a mio documentario, mi legge di tutto, poi, la passione mia, che valla sempre, a sotto a fare i mali, su su, però, non vi entrare nulla, si bade una bella poesia, fatta, che noi ti rimanda bene, su mantesi, bene, abbiamo sentito, questa bella poesia, poi entrare un'altra telefonata, e noi si intendiamo schieste, pronto? Oh, ciao Alfredo, buonasera, come ti stai, Santoni e Murni, dei, dei, dei bitti? Eh, che ti ho chiesto, mi hai dimenticato, eh, mi hai dimenticato, grazie a te, a sentire, che non è buona, eh, a sentire, che non è buona, ma, non ti ho chiesto, perché mi ti telefonano, la chiamata, non mette via più, tu, l'ischi si, questo, come ti stai, in famiglia? abitiamo bene, è buese, e noi siamo a te, ti chiedono una cosa, questo è un nuovo poeta, parabissimo, dei bitti, Antoni Murni, fa che piacere, fa che piacere, buonasera Antoni Cusso, buonasera, buonasera, che uso Cusso, proprio si stile, chi te l'ha todeo, già rima, eh, eh, vabbè, mi ponzo caio ogni tanto, giusto, però, vedo che siamo fatti, nel tuo concorso, nel tuo premio, della poesia, provate un intervento, ma, a concorso, sempre, eh, avviso che mi hanno premiato, una gomma, non dico, come in testa, mi ha telefonato, il Pizzetto, mi ha telefonato, eh, adesso, dì, che gli ha po', che gli ha po' il giamato, che viene, questo vi dà Perfugas, per l'home, un preso, ma, eh, eh, va bene, comunque, sembra, ma, sì, ma non ha prescitto, si vai a concorso a Perfugas, eh, concorso vai a Perfugas, sì, capito a Perfugas, io non mi hanno appomandato, vero, Zavo e Zia, che mi hanno dato il visito, però, ma mento, che la fa mandare a Sacli, ah, ecco, ecco, capito, cioè, non ho più inteso, non ho più compreso, in trelazzo, come in testa, in la cosa, regali, su libero, in ove, mi pare, che non chieste, Zavo, no, non beh, scusate, insomma, che non è, la neri, impiegata, in cacchate, in cacchate la, è, è intitolata, la cara luna, è intitolata, eh, ma no, non be la puita, non be la puita, se non è che la buona, di su che prepara, eh, su che prepara, come, su che prepara, poi, lui, distribuiti, quando facciamo sedizione, di un altro anno, sì, anno con anno, esso prepara, cioè, vaghemi comprendere, cioè, voi, ci l'hanno, si inviato una poesia, o che hanno? no, a poco compreso, o la, o la pubblica, a una, a una, la poesia, o che hanno, per esempio, pubblicata, o quando viene, sì, o che hanno viene, poi la pubblica, di sedizione, a tutta, come la fu compresa, tutta, per esempio, che ha fatto una da primo, da su due mizza, ed è, che l'hanno pubblicato, su due mizze undi, che su due mizze undi, che su due mizze e due, che ha, che ci narra, da ciò, che dai curati, su concorso, e sanno voi, bene, porta, i su, ho capito, se voi, me l'hanno inviato, o che hanno, a un altro anno, e se, i sui liberi, ma a chi devi, su che il velo, l'ha ponato, ma come te, sta andato a finire? Sì, sì, sicuro, sicuro, stai tranquillo, che è una terra, nubessa, che poi con Giovannino, non si vede nulla, adesso, adeuso, in canta di cusso, ma è nato, ma è nato, che i sui fratelli, sui liberi, ma è nato, tranquillo, questo è stato, non fatto come, vi abba, abba, che è bene lì, sì, tutte, la terza edizione, la terza edizione, se che abbiamo fatto, o canno, fissa guasta, su che, abbiamo dato, Alfredo, che poi, bollareggio, c'è la poesia, che ho presentato, in sedizione, di o canno, che è buona cattata, se il sui liberi, di un ateranno, il sui liberi, di un ateranno, compreso, ma santo lui, va bene, comunque, buono proseguimento, che si deve, ma è la risolta, è davvero, non è più, se stile, che prese, è davvero, è tanto, se si deve, se si deve, se si deve, se si deve, esatto, non si deve, ma è un po' legge, di un scolastico, su un giubbio, per esempio, su cui trattano, la rima, ecco, eh, beh, sì, su cui trattano, la rima, però me, se l'altro, la se può essere, su una testa, la se può essere, al bivetcio, e ognuno sa, ma siano le sue, va bene, saluta la famiglia, a mano, se meno, uno saluto, un saluto, a mano, dai partiti, la nuova sua poeta e buon proseguimento grazie a me la levata mia un saluto in famiglia ciao 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 questo è tanto il mondo dei bitti bravissimo un bravo poeta e lo salutiamo chiaramente ed è andato a leggere un'altra poesia il terminato si chiede se alfredo la potevo fino a leggere un'altra si chiede se alfredo l'ongaridina lo lasciamo a poi che si ha capo fatto la prosedizione no la potete leggere fino a scuola la vogliamo leggere se alfredo presentata si ha capo fatto due lì che ho messo a questa politica è imprezzato il messo a questa bundello che è indipendentista dai quando siamo un'altra cosa e fino a tutta la piccita quando abbiamo messo il consiglio regionale Gavino usale completata poi ai su mesi e maio prima però la presenta la sua cosa e quindi un saluto a cominciare a Gavino e poi il 6 ottavano in un esamento a Parisa di questa azione che abbiamo fatto da Gavino e Minciarenda a questa guerra con il Banco di Sardegna con la Italia con questa lotta con la Regna e con questa aereo fare cose e via discorrendo fino a serrare uno va in polemica ma comunque ti la legge l'ottacanta e comincia a Gai caro Gavino amico istimato pagas rigas ti scrio in poesia attenda mentasi in tempus passato decurda slotta sfattasi in compagnia dai canto cun amore e allegria prosa Sardegna nostra amus guerrato pro liberare sa terra isolana da esa dirannia italiana ma mento desi scafu e minciaredda e decur su del rino inquinato i nuoi seni cun'anima niedda ha da sa terra sarda avvelenato ogni razza e veleno hanno interrato solo pro si ingrassare sa bucedda e a portodurre pro disgrascia ebria l'hanno lasciato dolore e malatia del Subbanco e Sardegna ammento ancora parizza svolta già abbiamo sbrigato e se quittari avrò che ho gare a fora in donzi modu già abbiamo slottato e i sossi sfratto schiamus frimmado lascende ognuno in sa sua dimora degustas cosas candominde ammento jan deso orgoglioso e mi contento a soss ladrones de gelo e de mare i sossardos montene nei nostaggio sossi indipendentistas tuttun pare los amuso affrontatos cun coraggio un'odissea avare de su viaggio cando s'isola devrimos lasare e sossi migratos disterrados sun ancora vius disesperados proso esparcos e olicos a guerra jan delamus pesada da eora isfruttada gialan isfruttada gialan sa nostra terra e sussi ghinde a suzzare ancora a noi lasado nocanda e vora partidus an sa vulpa verra verra sossi mafiosos cun si stato un pari solo prosi dividers sui nari prola di funders a sarda cultura nobamo zeltu giradu intundu de monte bramma sa bella scultura namus fatto bocare dai fundu operas maidas a insumundu chivarene miraculo e natura quarende che rians esistenzia timinde deso sardo sa potenzia in villa certosa che ses entrato pronte ocare a pizzo ogni abuso e berlusconi già se sta irato chiedicheria ponner mano suso dove l'has nato mino se gesuso casa siso la sarda oltraggiato e si lascichi s'accusa manera già che cumpri sa diese in galera il status è sicuro pacusano e accusato l'has calchi dolore devi stare calmo e andare a piano nato tirato puro suduttore trocusso cambiato as deumore male sa sera e peus su manzano ma come se a mi pare smezorende sa forza grazie a deus ti è torrente tanto sa scorsa a sproponere a posto caro gaffino bene ha si studiato proleare sa catrea ad ogni costo tutto su resto da sei smenticato fina sa cancellare su passato prosuinare se si è stato disposto e de cuddu e zitto in su momento non intende se più su su lamento cuddu e zitto bene preparato in modo serio e pronuncia contento una dì è nozata di mandato non ha chi nozana furato su vento e provo aggiungere disgrazi e tormento su sole e sabba non sono leato e se seguimos di questa manera già non lascia ne manco sa era partito dai uno bottichino governo provisorio chiamato pro cararis leato a su camino e poi della il tanto disizzato a sa regione che si è arrivato passendo dai uno turichino e come che si è in tra i due sono contento si è scontento due con un augurio di indammentare di tutto canto su casa promesso ed eseguire a rappresentare prosindipendentismo puntuvissu prima decafundare in dunabisu dai ue non tinevodes più pesare con si speranzia dai ue in susu saperu giughe sentimentos sanos cadae gando giunto a sasasmanos passato capiurde uno mese e non assa provinzia lasciato devi dimitterti se sei sminticato perditano l'amus e speranzia attitano un uvago più modesto lascialistare a un'ala sarraguanzia e fa che abiter chi se sei onesto da esa provincia dimitti di presto prosunessi a salvare esa parinzia casimuntene si ingarricos duos tanto non se se in sentimentos duos con questa ottava vattosa serrata di questa mia modesta poesia prezisende chi l'appo preparata provassare un'iscutta in compagnia risperende di giughe le allegria a esa politica tanto avvelenata e chiedene pazienza di leggere si va di sbaglio già ma da correggere grazie all'interno di questa poesia la poesia è carinata per la politica per la te per la sapulita si è fatto prodotto non fa che non lo vago di cosa supera se il movimento che fa l'invito e tutto va bene Antonio devo ti saluto veramente a te bravissimo e ti chiede una cosa come ti buffo sono una bella tazzina e non ti è una partita una tazzina bravo capiamo sul consiglio pubblicitario allegra coro